Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovissimo video. Ciao. Spiega cosa bisogna fare. Interessante il gioco di quest'oggi. Innanzitutto, occorre l'acqua. Si, perché si chiama Prova a non ridere Challenge. Praticamente, noi bisogna mettere l'acqua in bocca e bisognerà cercare di non sputarla. Perché? Avete presente quando si dice acqua in bocca? Vuol dire stare... Zitti. Ecco, quindi bisogna provare a non ridere perché altrimenti con l'acqua in bocca si fa... Ci saranno delle battute e noi bisognerà cercare di non ridere. Importantissimo il ruolo dell'operatore oppure della regia esterna che ci annuncia le battute. Pronto? Ci devi far ridere quanto prima, quindi metto il C del tuo. Proviamo. Ma cara, come guidi? Era rosso. No, era blondo. Così. Il colmo della popolista... Aspetta, aspetta. Una almeno 30 secondi, duriamo. No? Il colmo della popolista, fare il cielo con la scena a vuoto. Era così grasso che la formulanza per portarlo in ospedale dovette fare due viaggi. Il pilota di Formula 1 stava bene, si sentiva in formula. Si sentiva anche... In folle? Formula. Ok, l'ultimo. Che fai? Bari? Io bevo un tanto. Vai. Ci ne vuole una corta. L'ultimo allora, eh. No. Se tutti ti vengono incontro, hai sbagliato forzia. Se tutti ti vengono incontro, hai sbagliato forzia. Il parcheggiatore Romano, vengo tutto. Va, venga tranquillo. Adesso c'è il deserto e si sente un terribile. Qui ho vinto io, uno pari. Un'altra e basta! No! No! Ma che fai? Ciao, allora, se secondo voi, credo, non lo so, eravamo pari, uno pari, se secondo voi... No, la lancio in aria, la lancio in aria! Questa sfida... No, la lancio in aria! No, poi li fagli lì! Nonno, non la lancio! Io sono il donno? Chi ha vinto, secondo voi, questa gara? Se è Charlotte, scrivete in commento Charlotte. Se è Marion, scrivete Marion nel commento. Ciao, non te la do' a stop! Ma che rispettosa! Ciao! Ciao!